Premiati a Roma Alconi, nelle sezioni carta stampata, tv, web e blog, i vincitori della quinta edizione del concorso giornalistico Extra per lo Sport, selezionati dalla giuria tra 320 articoli e servizi. Sono state 131 le società sportive che in Abruzzo, Marche, Mulise, Toscana e Umbria hanno partecipato alla Call to Action, le buone notizie dello sport e premiazioni nelle cinque regioni tra dicembre e gennaio. A Vaiano, comune pratese della Val Bisenzio, arriva GECO, comunità energetica da fonti rinnovabili di produttori e consumatori. Estraclima supporterà il comune nella realizzazione della comunità energetica. Torna da gennaio a marzo con il sossegno di Extra il Radio Italia Winterland Tour, 10 tappe nei weekend in note località sciistiche per un unico villaggio turistico invernale promosso da Radio Italia e WML Y&R.